Come gestire la rabbia repressa? È Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video e prima di tuffarci nel vivo di questo argomento scottante, perché è tosto questo qua, lascia un like, un commento, iscriviti al canale, alla pagina, fa qua i cos, io condivido volentieri quello che ho imparato in giro per il mondo viaggiando dall'India, l'Amazzonia, eccetera, mi fa grande piacere condividere queste informazioni perché sono preziose per l'essere umano, per me sono state molto importanti, lo sono tuttora, e tu aiutami a condividere, facciamo un bel team insieme così aiutiamo un sacco di persone. Bene, non so se vorrai vedere fino alla fine questo video perché è veramente tosto, tuttavia mi ha aiutato tantissimo e quindi credo che potrà aiutare molte persone che cadono in tentazione di questa robaccia brutta che è la rabbia, l'ira, l'ira funesta, ok? E rovina molto, mi ricordo, tira cazzotti a destra ma spaccavo su tutto e quindi ho scoperto degli insegnamenti straordinari di Sivananda che è il maestro che ti condividerò in questo video ed è estremamente prezioso. Una cosa devi capire, la rabbia è estremamente difficile da gestire nel momento in cui sorge, devi fare qualche cosa prima, è come cercare di fermare una valanga, complicato, puoi cercare di arginarla però è complicato, quindi quando arriva la valanga ormai l'è troppo tardi, ok? Ci sono persone che sono più focose, più propense all'ira rispetto ad altre, quindi quello che dovrai andare a fare è tutto un lavoro prima, non quando arriva la rabbia, quando arriva la rabbia l'è un casotto, si può comunque fare qualcosa, nel senso che quando arriva la rabbia bevi acqua fredda, conta fino a 20, si diceva questo detto, ma è vero, conta perché è estremamente utile e cerca di stare tranquillo in quel momento lì e un'altra cosa direziona come puoi stare tranquillo, non dicendoti devo stare tranquillo, perché quella roba lì non serve a nulla, nel senso che se tu hai, immagina di avere una macchina che va a 150 all'ora e vuoi fermarla di colpo, non si può, invece quello che puoi fare è cambiare strada, puoi girare il volante, dirigere tutta quell'energia, perché la rabbia ha con sé una quantità di energia pazzesca fuori controllo, quello che puoi fare è girare il volante e andare da un'altra parte, quindi questo è sicuramente il paracadute di emergenza quando succede questa cosa qua. Invece le cose importanti da fare prima che succeda questa cosa qua, uno sicuramente è l'alimentazione, smetti di mangiare alimenti che nel mondo ayurveda vengono chiamati tamassici, quindi quegli alimenti che tolgono l'energia, quindi tutta la porcheria, quella roba lì non ti fa bene per la rabbia. Nel frattempo la ciaccia ha macciucciato tutta la mano, mi ha fatto un casino. L'altra cosa appunto a proposito di questo è sviluppare la pazienza, devi metterti in situazioni dove alleni la tua pazienza, devi andare nel sentimento opposto alla rabbia, che è quello della compassione, della pazienza, cerca di fare cose che richiedono la tua pazienza, che richiedono la tua compassione, cerca di essere più amorevole, più compassionevole, servi il prossimo, aiuta, dai da bere alle piante, aiuta gli animali, aiuta i bambini, aiuta gli anziani, questo sicuramente ti aiuta per aprire il cuore, invece che contrarlo e chiudere, perché la rabbia è proprio una roba brutta, è come bersi la cicuta, in realtà la persona che ottiene maggior danno sei proprio tu, perché ti stai bevendo proprio un vaso, un bicchiere di veleno, quindi cerca di smettere il prima possibile con questa roba qua, perché fa veramente male. Non mangiare aglio, cipolla, non mangiare cibi piccanti, evitale a tutti i costi, cerca di evitare tutto ciò che è fuoco, cerca di immaginare un po' questa roba, la rabbia è molto energia di fuoco, quindi tu devi ridurre questa energia di fuoco, se hai questi attacchi di rabbia. Un'altra cosa straordinaria è l'utilizzo dei giapa, ok, tu puoi prendere un rosario, quello che vuoi, e ripeti un mantra, ripeti il nome di Dio, ripeti quello che vuoi, ripeti qualche cosa di positivo, la cosa più positiva in assoluto che esiste è sicuramente il nome di Dio, e trova un tuo mantra e ripetilo, ok, ripetilo. Questo perché? Perché tu sei ciò che vedi, ciò che senti e ciò che fai. Quindi se ti immergi costantemente nel nome di Dio, dell'abbondanza, Gesù ad esempio è un personaggio straordinario nel mondo dell'amore, e quindi sicuramente è molto collegato con questo sentimento opposto a quello della rabbia. Pratica meditazione, cerca di stare calmo, pam, ok. Pratica kirtan, canta i kirtan, canta canzoni sacre, melodie sacre, questo è sicuramente un altro aspetto fondamentale. Un altro elemento importante è che devi purificare la lingua, perché spesso quello che succede è che dei momenti di rabbia si dicono una marea di fesserie di cui poi ci si pente. Quindi quello che occorre fare è purificare la lingua. Come purifichi la lingua? Con il silenzio. Quindi pratica il silenzio almeno per due ore al giorno. Alla domenica, alla domenica sei ore di zitto, mutismo, state città. Devi purificare la lingua. Quindi pratica assolutamente il silenzio, almeno due ore al giorno pratica il silenzio. Altra cosa importante è il pranayama, la pratica del respiro. Il pranayama è la pratica di respirazione che viene insegnata dagli antichi yogi. Qua devo praticare la pazienza, adesso no, 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 fai il bravo, fai il bravo. No, 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 fai il bravo che stiamo andando avanti qua, bravo, grazie, grazie. Tutti giù, tutti bravi. Io sapevo che sarebbe andata fin... No, 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 c'è, 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 non mi morsicare, non mi morsicare, faela brava, e dobbiamo praticare la pazienza, quindi circondati di piccole pesti, esatto, così, proprio così, e cerca di rimanere in uno stato zen. Adesso io pratico proprio la pazienza in diretta e via, quindi ti stavo dicendo, pratica il pranayama, adesso arriva l'altra, mamma mia, devi praticare il pranayama perché il pranayama ti aiuta, è arrivata anche l'altra, no, 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 giù, c'è, 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 cali, 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 fatele bravi, fatele bravi, 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 tutti bravi, tutti bravi, via, non mi ciucciare adesso, mamma mia, Allora, devi praticare, qua ci diamo anche i baci nel frattempo, riusciremo a finire questo video perché praticherò la pazienza, praticherò tanta pazienza, sta iniziando anche a piovere nel frattempo per aumentare la pazienza, per dimostrarti in tempo diretto come praticare tutto questo. Il pranayama è il controllo della respirazione, quindi devi imparare a controllare assolutamente la respirazione, devi imparare a controllare la respirazione perché la respirazione è fonte di energia, ok? Quindi non c'era più verso e camminerò, camminerò, quindi pratica il controllo della respirazione, impara a respirare, a ciucciare dentro energia perché quando sei in uno stato di ira, quello che succede di rabbia è che perdi il controllo sopra la tua energia e quindi devi imparare nuovamente a gestire l'energia, ok? Altra cosa, pratica la brammaciaria, la ritenzione del seme, dell'energia sessuale, questa è una delle energie più potenti, se non l'energia più potente che noi abbiamo. Il seme, l'energia vitale, tu pensa a che cosa incredibile produce, produce la vita, ok? E quindi quando viene disperso così, è un'energia che viene mandata così. Non è giusto, sbagliato non conservare il seme, l'energia sessuale, è una scelta, è una scelta che tu fai. Molti hanno malinterpretato questa cosa, sicuramente è una scelta. Tu mi hai chiesto che cosa fare al meglio per ottenere dei risultati in questo ambito, questi sono sicuramente degli insegnamenti che sono estremamente utili, tratti da grandi maestri Sivananda, che divulga questa conoscenza straordinaria che è estremamente utile. L'ultimo passaggio è quello di utilizzare e di praticare il neti-neti. Il neti-neti che cos'è? È non sono questo, non sono quello. Quindi la comprensione della verità, quindi capire chi sei veramente. E per capire chi sei veramente, uno degli esercizi che viene fatto, che viene insegnato dagli antichi maestri Veda, è quello, nei libri, nel Veda c'è scritto proprio, quello di praticare il neti-neti, ossia cercare di capire chi sei attraverso la negazione, quindi non sono il corpo, non sono la mente, perché tu non sei in realtà neanche la rabbia. La rabbia viene fuori perché è la conseguenza di programmi che tu hai imparato nella tua vita, ma tu non sei quella roba lì, ok? Quindi cercando di capire che cosa non sei, ti avvicini sempre di più a capire che cosa sei. Questi sono gli insegnamenti del grande Shivananda. Mi auguro che ti possano essere utili, mettili in pratica. A me sono stati molto utili, sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti negli anni. Ovviamente è un cammino che richiede pazienza, non arrivi da 200 all'ora a zero nel giro di un nanosecondo, tuttavia è bello vedere i progressi poi nel tempo, quindi cose che magari prima ti facevano perdere la pazienza e scattare l'ira, vedere come riesci a gestirli in maniera molto più calma, pacata, con maggiore compassione, con maggiore amore, ed è bello questa cosa qua. E credo che ci sia tanta gente che abbia bisogno di comprendere come gestire al meglio dei momenti di ira, perché la ira scassa tutto, è veramente una robaccia, è una delle cose che proprio andrebbe estirpata dal mondo, è sicuramente un male che va estirpato dal mondo, quindi aiutami a diffondere questo messaggio di questi grandi maestri indiani che ne sanno a pacchi, quindi lascia un like, un commento, condividi questo video, iscriviti al canale, da Luca Luna è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!